ciao a tutti amici amici benvenuti o bentornati sul canale per un nuovo video allora oggi video dei prodotti finiti beauty del mese o meglio forse dell'ultimo mese e mezzo perché parecchio che non registro questo video ne ho accumulati un bel po almeno a giudicare dal volume dal peso del mio solito bustone del dm appunto dove metto i prodotti per cui ho deciso di registrarlo poi magari ve lo caricherò in settimana visto che appunto poi durante la settimana io non ho assolutamente tempo di dedicarmi al canale prima di cominciare il video però volevo porre la vostra attenzione sul mio rossetto che io trovo stupendo questo è un rossetto che mi è stato consigliato dalla mia amica giorgia che è proprio la mia guru per quanto riguarda i rossetti e perché io le ho detto giorgia mi consigli un rossetto matt che però abbia una formula idratante perché io ho il problema che i rossetti mi seccano sempre le labbra soprattutto i matt per cui dopo un po me li sento sulle labbra comincio a mangiarmeli e mi vanno via in due secondi e lei mi ha consigliato questo rossetto di questo brand di cui adesso non vi voglio spoilerare nulla perché ve lo voglio far vedere in applicazione in un prossimo get ready with me perché secondo me merita al di là del colore che secondo me è stupendo ultimamente vedete che sto utilizzando molto i rossi questo comunque è un rosso freddo un po scuro che vira un po sullo scuro quindi al di là del fatto che il colore è stupendo ma è proprio la formula che mi ha molto colpito perché è una formula veramente idratante che non secca le labbra e non è solamente idratante all'applicazione diciamo che non si secca nel corso del tempo per cui insomma molto confortevole secondo me è un rossetto che merita attenzione perché non se ne parla assolutamente è un brand di cui si parla per altre cose ma non per questa per questi rossetti appunto di cui sto parlando e e quindi insomma ve lo voglio far vedere in applicazione in un video get ready with me fatemi sapere se vi interessa così lo applichiamo insieme vi svelo il segreto va bene adesso cominciamo subito a parlare appunto dei miei prodotti finiti del mese appoggio il bustone pesco random cercando di dare un senso se riesco e vi faccio vedere appunto quello che ho consumato nel nel corso del mese come al solito ci sono c'è un po di tutto il video dei prodotti finiti diciamo racchiude un po tutti i prodotti appunto che si utilizzano nel mese a partire non so dalle veline igiene personale quindi non so igiene personale igiene orale cose che magari non insomma non ha non ha senso farci dei video a parte ecco per cui qui racchiudiamo un pochettino tutto poi ovviamente body care skin care un po di tutto insomma e chiaramente si può dare una recensione completa dei prodotti avendoli utilizzati fino all'ultimo all'ultima goccia qui ci dovrebbero essere anche però dei prodotti declatterati che vi ho fatto vedere nei nei prodotti bocciati perché niente non riesco utilizzarli ogni tanto capita che si debba buttare qualcosa comunque cominciamo allora veline queste qui sono quelle della sien sono mi sembra a tre veli sì se non mi ricordo male sono a tre veli e sono 90 pezzi queste sono quelle che sono vendute nella confezione xxl della lidl e quando le trovo in offerta le compro cioè in offerta la lidl nella confezione xxl da tre che costa 2 euro e 49 le compro infatti le ho comprate anche la settimana scorsa poi ho finito a fatica queste oscenissime salviettine della risparmio casa dice salviette mille usi per per adulti e bambine e bambini scusate con vitamina e e aloe vera dermatologicamente testata sì la chiusura mi piace ma proprio non mi piaceva assolutamente la la salvietta perché era faceva tutta quella pappetta piccicosa profumazione niente male ma no per carità non vedevo l'ora di finirle poi ho finito i miei meravigliosi dischetti della muji questi sono sono una spanna sopra diciamo rispetto ai dischetti classici che si trovano in commercio questi erano della dimensione non mi ricordo comunque vabbè io li prendo sia nella dimensione quella piccolina che nella dimensione grande è vero che costano un po di più però ce ne sono tantissimi dentro questa confezione e durano una vita e mezza infatti a me mi sono proprio durati una vita e mezzo forse ce ne erano 135 pezzi qui c'è scritto e questi qui erano quelli da 90 per 70 mm 100% cotone questi qui erano non mi ricordo se erano la versione biologica perché fanno sia la versione biologica che la versione normale ad ogni modo i dischetti di muji ottimi quando vado in centro ogni tanto faccio sempre un saltino da muji perché adoro i loro dischetti e anche altre cose tipo le fasce per i capelli che mi vedete sempre in testa sono quelle della muji non ho mai provato delle fasce diciamo appunto per capelli fatte in spugno intendo così comode e confortevoli come quelle della muji allora poi ho finito una confezione di questi 60 pezzi di quadrotti struccanti uso cosmetico della lilea questi qui dice 100 per 100 cotone due in uno non mi ricordo sinceramente dove le avevo presi boh forse dai cinesi la saponeria i soliti giri che faccio diciamo che me li sono fatti andare bene però rispetto a quelli della muji proprio sono inferiori ecco però insomma io li uso lo stesso poi non è che abbia tutte queste grandi esigenze diciamo che quelli della muji li utilizzo più se voglio farmi magari dei trattamenti un po coccolosi a volte mi ci strucco anche però magari evito di li alterno in modo da non finirli subito ecco comunque quelli della muji buonissimi questi altri sì buoni sono cose ovviamente dischetti da grande distribuzione poi ho finito queste salviettine della tempo fresh protect con antibatterico e buone devo dire queste le tenevo in ufficio quando magari in velocità mi dovevo un attimo pulire le mani senza dover andare in bagno perché purtroppo io ho il bagno lontano dall'ufficio e tutte le volte devo uscire per cui dallo stabile passare davanti al portone comunale c'è un freddo allucinante quindi a volte appunto mi pulisco le mani in questo modo per non uscire ecco poi ho finito questi cotton fioc della cotoneve erano 160 pezzi io non è che li uso tantissimo questi per cui mi durano una vita mi sono trovata bene buoni ma non ho particolari esigenze su queste cose poi per quanto riguarda gli struccaggi ho finito anche i dischetti vi faccio vedere un po tutti i dischetti salviette queste cose qui ho finito anche questi qui della quando è dischetti 100% cotone per detergere e struccare questi erano 80 pezzi che questi si trovavano perché forse non si trovano più cioè da tigota hanno cambiato marca forse adesso avilea qualcosa del genere quindi io erano erano delle scorte che avevo da un po li ho utilizzati questi più che altro quelli piccoli li utilizzo più che altro per togliermi lo smalto a volte anche per gli occhi ma principalmente per togliermi lo smalto buoni come come stesso discorso di quelli di prima me li sono fatti andare bene però non è che questi sono prodotti che insomma dico wow li devo andare a ricercare quelli della mugisi poi butto in condizioni pietose questa spugnetta leva trucco che avevo della cotoneve questa questo è un po è simile a quella che si vende da tigota devo dire che mi ci sono trovata bene con questa spugnetta però ecco adesso è un po diciamo logora per cui è ora di buttarla non vorrei fare troppo casino per non darvi appunto fastidio cominciamo con non mi sembra di avere altri dischetti le beva truffa anzi no sì scusate ho queste spugnette per la pulizia del viso della carfor queste mi piacciono un casino perché sono morbidissime però purtroppo non ho sono quelle in cellulosa gialline però purtroppo non ho un carfor vicino per cui non le posso comprare per cui niente comunque cominciamo invece a parlarvi di quello che ho finito per quanto riguarda l'igiene orale ho finito questo colluttorio della conad essenzie protezione completa colluttorio antiplacca con menta buono mi è piaciuto qui dice il 50 per cento di plastica riciclata con azione antibatterica senza alcol infatti era delicato aveva un buon mi lasciava un buon sapore su in bocca devo dire io non ho particolari esigenze anche se il mio preferito rimane in assoluto per quanto riguarda il prezzo un pochettino più alto sicuramente quello della parodontax invece prezzo un po più basso quello dell'acqua frasce ma comunque questo mi è piaciuto lo avevo trovato in offerta la conad se lo dovessi ritrovare in offerta io questo comunque lo ricomprerei un buon colluttorio diciamo da grande distribuzione poi ho finito questo qui il daytech sensitive colluttorio della copp questo qui mi è piaciuto di meno rispetto all'altro però vabbè non era un cattivo colluttorio però sinceramente senza infamia nell'ode poi vediamo se c'è qualcos'altro mi pare di no per l'igiene orale ho finito o meglio sì si era finito sì questo dentifricio della elmex junior 6 12 anni che utilizza karim noi utilizziamo sempre solo questo perché tutti i dentisti che abbiamo girato anche se adesso abbiamo comunque un dentista di fiducia che mi ha risolto molti problemi che lui aveva sui denti anche da latte diciamo che un po tutti i dentisti che avevamo girato ci hanno consigliato questo per i bambini per cui io ho sempre utilizzato questo lui è abituato a questo e gli compro gli gli compro e ricompro questo poi che cosa ho finito cominciamo con bagnoschiuma come al solito il mio ciuffo che mi dà fastidio questa è una roba proprio che immagino che non mi sopporterete più ma no scusate era rimasto qui sotto un altro dentifricio sempre generale quindi questo menta detente protect protect plus buonissimi questi mi piacciono tantissimo sono una sorta di pasta gel non è proprio una pasta molto pastosa però proprio molto delicate lasciano un buonissimo puliscono molto bene i denti lasciano proprio la bocca delicatamente con un con un sapore delicato mentolato insomma mi piacciono e poi abbiamo cambiato lo spazzolino per carim idem con patate rispetto al col rispetto al al dentifricio utilizziamo per lui utilizzo questi spazzolini della elmex junior e mi trovo molto bene e non cambio poi mi pare che non ho finito nient'altro cioè di colluttori queste cose qua non c'è nient'altro aspettate che prendo la borsa qui me la metto qui altrimenti faccio un casino che la metà basta ah no mi sono mi rivengono a mano le salviettine della carfre queste sono tra le mie preferite in assoluto hanno un ottimo inci un'ottima profumazione detergono molto bene le parti intime le me le porto in ufficio e sono soprattutto molto delicate quando le trovo in offerta le compro le ricompro poi mi pare che sì possiamo cominciare con shampoo bagno spuma eccetera allora ho finito questo abbiamo finito perché comunque li utilizziamo in due anche se questo l'ho utilizzato prevalentemente io questo spuma di champagne bagno doccia cremoso con ingredienti di origine naturale dermatologicamente testato questo aveva una profumazione delicata di pulito un po' quelle profumazioni di pulito devo dire ragazzi che a me non era un cattivo bagno schiuma ma a me non ha fatto impazzire devo essere sincera questi della spuma di champagne so che tu appiacciono a tutti a me diciamo non è che non mi piacciono però preferisco altro ecco questa profumazione poi non era tra le mie preferite per cui non andrei sicuramente a ricomprarlo e non andare a ricomprarlo ecco a ricercarlo invece molto questo qui mi piace di più come profumazione perché comunque avvolgente come sapone mani questo mi è piaciuto e è quello sempre spuma di champagne all'olio di argan e paciuli nutriente questo è un flacone da 500 ml e tra l'altro è addizionato con antibatterico diciamo che ecco questi prodotti della spuma di champagne mi piacciono più per le mani che per il corpo comunque questo buono mi è piaciuto se lo dovessi ritrovare se non fosse che ho scorte infinite lo lo riacquisterei poi andiamo ai miei bagnoschiuma preferiti delle della grande distribuzione forse credo che ormai lo avete capito sono questi della borotalco al di là del fatto che la mia profumazione preferita non è questa ma quella al tè verde bergamotto però d'inverno questa qui veramente buonissima a me non piacciono tanti non sono mai piaciute tantissimo le pro per esempio il felce azzurra non mi fa impazzire invece il borotalco mi piace moltissimo perché è una profumazione di talco diversa secondo me particolare questo adattissimo secondo me al periodo invernale a di là del fatto che un ottimo bagnoschiuma appunto fa una bella schiumina morbida non secca bla 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 ma inebria proprio il bagno tinebria proprio di questa profumazione di borotalco molto appunto secondo me molto adatta al periodo invernale buonissima e appunto il profumo poi si sente su tutto in tutto il bagno veramente molto persistente anche mi piace moltissimo poi come saponi e bagnoschiuma questo l'ha utilizzato karim abbiamo finito ha finito questo della decora urban fit purifying shower gel detox ginseng vetiver energizing allora questi questo aveva la profumazione tipica insomma di maschile di quei bagnoschiuma un po maschili io non ci sento molto ginseng devo essere sincera è proprio la profumazione classica di dei bagnoschiuma maschili ecco buono lui ci si è trovato bene non gli seccava la pelle ecco non andrei a ricercarlo per ricomprarglielo poi io prevalentemente sì lui non penso che l'ha utilizzato perché li metto nella doccia però poi a lui gliene metto sempre uno specifico per cui lei tende a prendere sempre lui tende sempre a prendere le sue cose io ho finito questo dell'angelica questo molto buono della linea oleo nature batte in shower gel all'olio di mandorle bio settificante molto buono faceva con una profumazione avvolgente ma delicata di mandorle appunto e faceva una bella schiumina morbida non seccava e poi appunto qui dice linea olea perché era appunto leggermente oleoso cioè si sentiva che all'interno del bagnoschiuma c'era una componente nutriente molto piacevole sulla pelle e coccolosa ottimo prodotto questo se lo dovessi ritrovare lo riacquisterei nei miei vari giri poi come sapone mani abbiamo finito oh sì abbiamo finito questo della Yves Rocher questo qui è una delle ho ancora qualche scorta di saponi bagnoschiuma non credo ma saponi della Yves Rocher che avevo comprato diverso tempo fa e mal mano li sto smaltendo adesso non vado più da Yves Rocher però devo dire che i saponi bagnoschiuma mi sono sempre piaciuti e questo non fa eccezione molto buono devo dire detergeva bene le mani senza seccarle e una profumazione di olivo veramente molto delicata e molto buona molto buona questa profumazione di olivo di Yves Rocher se mi dovessi trovare non sia mai magari potrei anche pensare di riacquistarlo ah è rimasto vedete un altro dentifricio questo qui è il sempre della linea della cop dei tec alito fresco con anticarie buono lasciava un buon sapore in bocca era in gel questo se non mi ricordo male sì un gel blu però preferisco i menta dent però non male poi costano poco questi della cop per cui ve li consiglio poi ho finito questo olio corpo della baby love ultra sensitive questi qui sono quelli che si trovano al DM un buon olio fa quello che faceva quello che doveva fare un olio corpo cioè praticamente nutrire elasticizzare però ragazzi a me non mi piace la profumazione per niente e quindi insomma l'ho finito un po' a fatica lo avevo lasciato poi l'ho ripreso per finirlo ma non mi piace la profumazione poi ho finito questo meglio questo l'ho finito carim perché a me non piace ragazze cioè il profumo mi piace il bagno schiuma no non lo so perché cioè anzi il profumo mi piace però non è questa meraviglia so che piace a molti secondo me eh secondo il mio naso il mio olfatto ognuno al proprio non ha una profumazione secondo me che boh così entusiasmante e quindi alla fine il bagno schiuma non mi piaceva perché poi questi bagno schiuma dei sapori d'oriente sì no scusate che sapori d'oriente tesori d'oriente secondo me lavano un po' poco e tendono un po' a essere aggressivi a seccare la pelle per cui non è che mi fanno impazzire a volte quando voglio qualcosa di profumoso li compro anch'io però ecco non è non mi ha fatto impazzire a me a lui è piaciuto invece ma tanto i bambini non hanno particolari esigenze e neanche la profumazione diciamo è tra le mie preferite poi cosa ho finito vediamo ho finito questo eh detergente intimo della Nivea Extra Comfort eh scusate ehm Fresh Comfort in questo flacone da 250 ml questo aveva una consistenza in gel molto delicato eh diciamo che mi son trovata bene puliva bene però avevo provato anche l'altra profumazione verde all'aloe preferisco di gran lunga quello come profumazione come sensazione così di pulito di freschezza mi piace di più quello però anche questo comunque un buon prodotto da grande distribuzione soprattutto non mi ha irritato perché insomma per me è importante quello per cui è andato più che bene ottimo anche questo della Sauber Deo detergente intimo lenitivo con bisabololo ed estratto di camomilla ideale per chi è soggetto a fastidi intimi questo non è la prima volta che lo compro mi ci trovo molto bene con questo detergente con questo detergente intimo ha una profumazione buona che mi piace di insomma che secondo me adatta alle parti intime e niente quindi non non secca le mucose non non irrita pulisce molto bene ha un buon profumo mi piace lo compro e lo ricompro non è la prima volta poi come shampoo prodotti per capelli vediamo un po ho finito o meglio ha finito Karim questo head and shoulder anti forfora shampoo e balsamo due in uno classic clean con questi lui ci si trova bene con questi prodotti diciamo due in uno oddio questo non avevo notato che era un anti forfora comunque vabbè lui ci si è trovato bene insomma magari anti forfora non glielo compro più perché lui non ha la forfora anzi i capelli secchi e crespi però come gli head and shoulder comunque sono dei buoni shampoo insomma ci troviamo bene io invece ho finito questo balsamo della l'oreal elvive total repair 5 rapid reviver questo per i capelli colorati devo dire che è un ottimo balsamo come tutti quelli così in tubo della l'oreal nutriva bene il mio capello me lo districava ciao dio nutriva ammorpidiva il capello me lo districava buono veramente molto buono ne ho tanti da smaltire per cui non lo vado a ricomprare però ve lo consiglio poi vediamo un po' sì mi sembra che adesso ho finito tra un po' arriviamo ai prodotti viso che sono tanti appunto perché ci sono c'è anche qualche declatterato che vi faccio vedere allora intanto due cremine mani allora questa qui della sephora collection al mango carina come crema mani non la più nutriente la più idratante del mondo sapete che la mia preferita è quella della rila still però da tenere in borsetta queste cremine di sephora collection sì non mi non mi dispiacciono per nulla e se mi trovassi lì magari che devo raggiungere una spesa così ce l'aggiungo e me le metto in borsetta in altre profumazioni magari posso pensare di prenderla invece devo purtroppo declatterare questa crema di melvita completamente intatta perché quando la sono andata aprire la tenevo lì da qualche mese però ragazzi completamente chiusa sigillata c'era anche la plastichina qui insomma l'alluminio quando la sono andata aprire al di là della crema che vabbè neanche l'ho provata più di tanto per 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 recensirvela quando purtroppo la sono andata aprire e puzza secondo me puzza ha un odore sgradevole per cui non riesco a utilizzarla questa qui proprio la butto e intatta purtroppo devo dire che melvita spesse volte fa questi scherzetti perché io sapete che giro molto quando vado da tigota adesso un po che non ci vado e ci sono i tester di melvita tutti ma dico tutti puzzano ma proprio tutti ok capita a volte ma non sempre melvita puzzano tutti per cui insomma secondo me sono dei prodotti ottimi ma che però vanno consumati proprio tendono a degradarsi e ad alterarsi in maniera molto veloce per cui non fanno assolutamente per me perché ho tanti prodotti spesso a volte i prodotti restano in coda per cui poi va a finire che mi tocca buttarle per cui con melvita ho chiuso non credo che acquisterò mai più nulla forse ho qualcos'altro da smaltire ma non acquisterò più nulla quindi questa la declattero poi sì mi sembra che ah no scusate mi era rimasto questo prodotto per i capelli poi andiamo al viso che è una un campioncino dell'alapex numero 3 che ho utilizzato una volta ci ho fatto un'applicazione sapete che adesso io ho le schiariture quindi i capelli sono un po' più secchi anzi un bel po' più secchi e devo dire che mi ci sono trovata bene proprio veramente il capello dopo l'utilizzo di questo prodotto era bello nutrito ristrutturato lucido buon prodotto ecco non so se lo andrei a comprare perché so che appunto i prodotti olaplex costano tanto ho l'olietto tra l'altro io non ho tutte queste grandi esigenze mi basta l'olietto insomma l'ho voluto l'ho provato perché mi hanno dato il campioncino quindi è un ottimo prodotto però tante maschere in scorta mi vanno più che bene per cui non lo vado ad acquistare poi cominciamo con struccaggio prodotti viso eccetera cerchiamo di sistemare questo ciuffo in modo da non toccarmi troppo i capelli allora ho finito questo struccante pure clean eyes and lips della Kiko questo pure lo avevo nelle scorte da un bel po' devo dire non male non era né troppo unto né troppo acquoso struccava abbastanza bene devo dire non mi ci sono trovata male se mi dovessi trovare da Kiko che mi dovesse servire uno struccante lo riacquisterei devo dire non è il migliore in assoluto non mi fa dire wow però insomma è un buono non male ecco poi ho finito un rimasuglio di questo siero che avevo cominciato addirittura l'inverno scorso della Isdin il retinal intense c'è ancora un goccino di olio però non si emulsiona più bene perché questo era un siero praticamente che poi nel momento in cui si eroga la parte oleosa viene miscelata con la parte cremosa è un siero alla retinaldeide quindi ancora più potente del retinolo allora devo dire una cosa un buon siero non particolarmente idratante costa una fucilata però ecco quello che voglio dire non su questo siero che comunque rimane un ottimo prodotto sul retinolo in generale ragazzi penso che non faccia per me perché non riesco così tanto a essere costante con il retinolo e quindi non vedo questi super effetti wow sulla mia pelle per cui preferisco altri attivi tra l'altro per fortuna nonostante la venerante età di 53 anni io non ho la pelle particolarmente rugosa magari ho qualche cedimento quello sì a livello forse più di volume che di rughe per cui boh non lo so io il retinolo non scoppia l'amore con il retinolo e questo comunque rimane un ottimo siero non idratante però però ecco non lo andrei a ricomprare perché costa tantissimo una settantina di euro per cui no non lo ricomprerei ma comunque un buon siero un ottimo siero poi dunque vediamo che cosa vi faccio vedere cominciamo con i sieri contorniocchi allora ho finito questo siero della Rilastil Intense C questo ha la vitamina C illuminante e antiossidante sappiamo appunto che la vitamina C ha potere antiossidante ed illuminante molto acquoso buono però non appiccicava bella pelle bella compatta luminosa questo me lo avevano era una mini taglia che mi avevano dato in omaggio in farmacia con degli altri acquisti non lo andrei a comprare io di tasca mia ma semplicemente perché mi piace provare altre tante cose tanti prodotti e adesso ho già in coda altre cose da provare però ecco ve lo consiglio un buon siero alla vitamina C non il migliore che abbia mai provato però un buon siero poi ho finito questo contorniocchi di cui vi ho già parlato nel video dei top della Skin Regimen che è la linea diciamo più anti-age di Comfort Zone quindi dei prodotti di nicchia che sono molto costosi era un siero fluido molto buono devo dire con una bella azione diciamo levigante non un siero particolarmente corposo però molto levigante illuminante lo utilizzavo la mattina anche ottimo sotto il trucco sotto il correttore che scivolava meglio non si insinuava nelle pieghe per quanto riguarda le occhiaie non ho visto chissà che cosa forse qualcosa di molto impercettibile ho visto molto di più con quello di Estée Lauder l'Advanced Night 3 Pair poi non lo so dipenderà anche dal momento in cui uno utilizza i prodotti un buon contornocchi ottimo contornocchi buono forse poco ottimo contornocchi sono contenta di averlo provato però ecco non lo ricomprerei perché costa tantissimo e mi piace provare tante cose nuove buono anche questo qui di Collister della linea Magnifica questa qui invece era una cremina più compatta più corposa quindi lo utilizzavo la sera nutriva bene il contornocchi contornocchi rassodato levigato però ecco aveva questo aveva più l'azione più nutriente rassodante che levigante quell'altro invece un pochettino più levigante però ecco la mattina poi mi svegliavo col contornocchi bello nutrito la profumazione è praticamente inesistente buono devo dire e penso che abbia cambiato il pack la linea di Magnifica di Collister però penso che sia lo stesso prodotto io questo l'avevo trovato in stra stra mega offerta proprio perché forse cambiavano il pack a tipo 25 euro perché questo è un contornocchi che a prezzo intero costa di più e mi ci sono trovata bene solo che all'ultima dell'ultima periodo mi ero stufata e volevo passare ad altro quindi forse non mi è piaciuto tanto quanto tanti altri contorni occhi che magari cerco di centellinare perché non li voglio finire poi andiamo ai prodotti declatterati vi faccio vedere un po' di prodotti declatterati di cui vi ho parlato nel periodo dei bruciati devo butto questa crema di Adala butto meglio un po' l'ho utilizzata ne è rimasta poca ma la butto ne è rimasto un fondino questa crema della Adalabo Tokyo che è questa linea di cosmetica giapponese che si trova al DM devo dire è un'ottima linea ho provato anche tante cose in passato che mi sono piaciute ma questa crema proprio non mi è piaciuta mai dall'inizio perché ha una consistenza adesso non ve la faccio vedere ve l'ho fatta vedere nel video dei bocciati se vi interessa magari ve lo linko andate a guardarlo ha questa consistenza filamentosa appiccicoso sul viso una cremina molto appiccicosa mi lasciava proprio la sensazione di appiccicacchiccio proprio la texture non mi piace assolutamente di questo prodotto per cui ho cercato di utilizzarlo il più possibile è arrivato il momento di cestinarlo poi ho finito vi faccio vedere i cestinati prima va allora purtroppo devo buttare butto questa crema di Bottega Verde della linea straordinaria questa è la crema top di Bottega Verde cioè quella che costa tantissimo a prezzo intero io ovviamente sappiamo che Bottega Verde ha i prezzi gonfiati io l'avevo presa in stra mega offerta penso di non averla pagata più di 20 euro perché comunque il siero della stessa linea che avevo provato in campioncino e che dovrei avere anche in full size nelle scorte mi era piaciuto molto per cui ho detto dai voglio provare anche la crema ragazzi l'ho aperta puzza per cui anche questa puzza un odore veramente sgradevole e quindi ho deciso di cestinarla per carità pessima secondo me altro che 70 euro mamma mia poi un'altra crema che devo buttare di Bottega Verde io in genere con le creme di Bottega Verde mi ci sono sempre trovata bene però queste non mi sono piaciute è questa crema Collagen Supreme per pelli normale secche anche questa mi pare che ve l'avevo messa nei bocciati non mi ricordo fatto sta che non mi piace perché anche questa mi lascia praticamente vedete questa crema abbastanza compatta corposetta ma non troppo questa è per pelli normali o secche ma c'è anche la versione per pelli miste anche questa è una sensazione di appiccicaticcio non si assorbiva mai per cui no non la uso neanche sul corpo no invece questa non male della linea sempre di Bottega Verde crema viso giorno e notte questa dovrebbe essere la linea alba cucchiola se non mi ricordo male sì che è appunto questa alternativa naturale al retinolo questa aveva una consistenza compatta però troppo compatta vedete che non lo so aveva una consistenza secondo me troppo compatta non era male come crema però niente di così particolarmente diciamo esaltante per cui insomma questa l'ho finita sul collo e sul collo devo dire che mi è andata bene devo dire che le creme che non mi fanno o che non mi piacciono proprio o che non mi fanno particolarmente impassire le sto smaltendo sul collo e così almeno riesco a non buttare poi invece ho finito questa meraviglia di cui vi ho parlato nei top questa crema della apivita apivita biradiant questa la utilizzavo al mattino mi ci sono trovata molto bene potrebbe sembrare una crema al tatto come texture un po' grassa ma poi in realtà si assorbiva benissimo sulla mia pelle questa è la versione rich qui dice rich texture crema segni del tempo e antifatica quindi molto adatta appunto come base per il trucco la mattina mi lasciava la bella la pelle bella compatta luminosa mi dava una bella risvegliata la pelle la mattina mi ci sono trovata molto bene devo dire apivita un ottimo brand che fa prodotti con un alta percentuale di ingredienti di origine naturale buono o altro nelle scorte tra l'altro qualcuno mi aveva chiesto anche in passato di fare una recensione monomar capivita devo mettere da parte quel barattolo di crema altrimenti poi non faccio mai questa tipologia di video perché butto non penso butto perché io improvviso molto i video invece insomma per fare queste cose qui bisogna un pochettino organizzarsi anche mentalmente io non ho tempo vado sempre di fretta e vabbè però ecco adesso magari faccio la busta quella la metto da parte così posso pensare magari quando ho accumulato un po' di prodotti farei qualche un video su apivita visto che ho provato abbastanza cioè non tantissimo non tutto però abbastanza poi ho finito questa crema scusate questa maschera della clarence questa è la lift affin affin mask intensive questa maschera che dice promette di schiarire il viso e appunto dice oddio il francese non lo cioè proprio io e il francese siamo due mondi a parte buonissima fa proprio è molto schierente come crema cioè proprio si vede dopo è una pasta diciamo abbastanza corposetta bianca non so se potete vedere ce n'è qualche rimasuglio che a contatto con poi si lascia in posa ovviamente poi quando la togliete proprio vedete proprio la pelle rinnovata schiarita qui dice che insomma ridisegna gli ovali del viso vabbè adesso diciamo che una maschera non è che possa fare chissà chissà quali miracoli però veramente molto buona adesso in uso l'altra che è quella l'extra firming anche quella ottima devo dire che le maschere viso Clarence le sa fare mi piace molto poi stiamo finendo e sono 37 minuti di video ho finito questa crema di filorga della filorga la global repair questa aveva una consistenza un po' diciamo non non super compatta morbida soffice giallina sembrava un po' il colore uovo sbattuto allora inizialmente pensavo che fosse troppo corposa per me come crema perché comunque io ho una pelle mista diciamo normale un po' mista in alcune zone si è molto normalizzata nel corso del tempo con l'età però pensavo che fosse una crema troppo pesante per me in realtà poi sul viso la sera dopo aver utilizzato magari il sero retinolo mi nutriva bene il viso molto proprio con effetto anti age una crema proprio ottima anti age e la cosa che mi ha sorpreso nonostante questa texture molto nutriente non mi ha fatto uscire grani di miglio per cui un'ottima crema che consiglio adesso non so per le pelli grasse forse un po' troppo un po' troppo pesante non è pesante però è nutriente molto nutriente quella magari ecco questa per le pelli molto grasse non lo so però io mi ci sono trovata da dio è un'ottima crema anche qui costa molto questa crema però io l'avevo trovata in un cofanetto all'esse lunga mi sembra perché a esse lungo ogni tanto fa i cofanetti di filorga o forse a natale l'avevo comprata comunque vabbè l'avevo trovata sempre in sconto ottima crema ve la consiglio ottima crema per chi cerca una crema proprio anti age tra l'altro filorga fa delle creme con degli ingredienti veramente ottimi all'interno poi ho finito un cubizzarro di make up non ho finito niente perché sapete sapete che col make up insomma a parte questo perché sapete appunto che il make up ci vuole un casino di tempo per smaltirlo almeno io ci metto un casino di tempo a parte questi prodotti ho finito una cubizzarro di Nabla che dire mi piacciono da morire questa è la versione brown ne ho già altre due di scorta di questa brown l'unico difetto che trovo queste cubizzarro è che poi quando arrivano qui allora o si a volte si spezza la punta se non si tiene bene oppure a volte ecco quando arriva qui non si può più utilizzare e che abbia questa punta un pochettino troppo grossa quindi a volte magari se voglio fare una linea più sottile di eyeliner prendo altro dal cassetto però devo dire che sono ottime scrivono benissimo si possono sfumare utilizzare come base ombretti oggi per esempio l'ho utilizzata come base ombretto però una volta che si fissano resta lì tutto il giorno a me scrivono benissimo anche nella rima interna mi durano tutto il giorno cioè tutto il giorno intendo quando io dico che dura tutto il giorno non vuol dire che la matita è identica da mattina a sera che comunque il tratto rimane un po' magari leggermente sbiadito ma rimane insomma io mi ci trovo d'addio con le cubizzarro sto provando anche la versione shine ma secondo me non è a livello della matte e queste le compro e le ricomprerò tutta la vita le shine sinceramente al momento ho utilizzato solamente la colorazione bronzi però non mi ha esaltato perché non hanno tanto a base colore e quindi io avendo la palpebra molto pigmentata su di me non risaltano molto comunque quelle matte invece ottime veramente ottime ecco direi che basta abbiamo finito con i prodotti finiti dell'ultimo periodo sono comunque 40 minuti di video niente spero di esservi stata utile in qualche modo di avervi tenuto compagnia fatemi sapere se vi interessa sapere che rossetto indosso se siete curiosi di quello che appunto ho detto all'inizio del video faremo un get ready with me in cui ve lo mostro all'azione vi svelo appunto di che rossetto si tratta fatemi sapere se vi interessa all'interno del video altrimenti scusate nei commenti qui sotto altrimenti prenderò altro farò un get ready con qualcos'altro poi parleremo anche magari di un argomento femminile per cui avevo messo un post nella pagina della community sempre qui su youtube anzi se volete potete andare a scrivere se avete appunto un argomento preferito insomma potete suggerirmi un argomento di cui io possa parlare all'interno di un get ready with me cioè per non parlare solamente di trucco così li rimane e man mano che faccio i get ready with me posso prendere spunto per parlare di qualcosina niente direi che ho detto tutto io vi saluto e vi auguro una buona giornata serata a seconda di quando starete vedendo questo video e ci vediamo al prossimo video ciao a tutte e a tutti